I dispositivi Gionics sono dispositivi di sanificazione attivi. Il plasma che viene generato dai nostri particolari attuatori ha la capacità di andare a caccia delle sostanze inquinanti, quindi viene generato in ambiente e decontamina da microorganismi e composti organici volatili presenti in aria. L'utilizzo dei dispositivi all'interno di locali pubblici o di ambienti professionali quali parrucchiere, estetica o bar ridurrà il rischio di diffondere malattie aerotrasportate. Questo non garantirà ovviamente che i vostri frequentatori siano completamente esonerati dal contrario malattie. Nel vostro ambiente saranno ridotti notevolmente i rischi. Fuori dal vostro ambiente non potete garantire alcunché. Garantire ai vostri clienti un'aria sanitizzata ridurrà notevolmente la possibilità di contrarre malattie all'interno dei locali. Ovviamente devono essere mantenuti tutti i presidi fisici suggeriti dal decreto, mascherine, guanti e distanza sociale. Esistono molte ricerche scientifiche a proposito della capacità di riduzione batterica, microbica e virale dell'NTP. Noi stessi abbiamo condotto molte ricerche per la parte biologica e a breve partiremo anche con una ricerca specialistica per il mondo dei COVID. Bonificare un'attività puntuale che viene condotta in un tempo relativamente breve ma che congela in quel momento la situazione. Non garantisce un'attività di sanificazione nel tempo. John X Cube può rimanere in funzione costantemente. L'importante è fare attenzione a un corretto dimensionamento dell'apparecchiatura, di lasciare quindi impostato il dispositivo a livello minimo, medio o massimo in base alle dimensioni del locale. I dispositivi John X possono essere utilizzati sia d'estate che d'inverno anche in presenza di aria condizionata o di finestre aperte. L'aria sanitizzata genera un ambiente inospitale alla diffusione dei microorganismi. Ricordiamoci che tutto quello che è previsto dal decreto non può essere sostituito da dispositivi di sanificazione, quindi mascherine, guanti e distanza sociale devono comunque essere mantenuti. La scelta del dispositivo più adatto alle esigenze professionali e industriali richiede l'intervento di personale tecnico. Vi chiediamo quindi di rivolgervi ai nostri rivenditori autorizzati o direttamente all'azienda. È possibile acquistare John X Cube attraverso i nostri distributori autorizzati che trovate elencati nel nostro sito oppure dal nostro e-commerce. I distributori saranno in grado di darvi i migliori suggerimenti sia per il dimensionamento che per le caratteristiche di applicazione. Le nostre linee professionali Steel e Mate non richiedono l'intervento di personale specializzato né per l'installazione né per la manutenzione. Potete trovare all'interno del nostro canale YouTube tutte le istruzioni per le manutenzioni periodiche e per le sostituzioni, quando necessarie, dei generatori di plasma o dei filtri. L'installazione dei dispositivi della linea Steel può essere fatta dal vostro elettricista di fiducia. È molto semplice, basta seguire le istruzioni presenti sul manuale. I dispositivi della linea Steel vengono realizzati unicamente in acciaio AISI 304, non esistono altre versioni.